Se continuiamo così, già è la terza volta, siamo un po' stanchi, ma stanchi, stanchi, stanchi. Sono esasperati i titolari della società agricola Roberti. Hanno subito l'ennesimo attacco dei lupi in questo campo di 7 ettari, situato a Montecucco, nel comune di Terre Roveresche. Due anni fa vennero sbranati 30 capi di bestiame, lo scorso settembre ben 25, e questa mattina altri 25 tra pecore, capre e agnellini. Quando vi siete accorti di questa mattanza? Mi sono accorto, questa mattina io alle 5, venendo in azienda per i lavori di routine, ho notato che qui al Pasquo c'era qualche capo fermo che non si muoveva. E pensate quindi ad un attacco dei lupi? Sì, lupi, lupi, non c'è nessun dubbio, lupi, sì, sì. Da dove possono essere entrati? Avete notato qualche buco, qualche pezzo di recinto mancante? Allora, i buchi non ci sono. No, noi abbiamo fatto un recinto due anni fa, prima del Covid, con la rete 40 cm sottoterra, con la rete elettrosaldata e può essere anche passato sopra, non si sa. Avete provato a quantificare il danno? Allora, i danni, le pecore con gli agnelli, una pecora grassa da un quintale vale intorno ai 130-140 euro, e in più l'agnello venduto al negozio ne vale altre 120-130 e le capre vengono 80-100 euro l'una. Oltre al danno economico, prosegue Francesco, c'è anche quello affettivo. Infatti, questi animali sono motivo di attrazione sia per i clienti del ristorante che per i bambini che si fermano ad ammirare gli animali. I poni, per fortuna, si sono salvati, ma tanta è stata la paura anche per loro, tant'è che sono stati ritrovati nella boscaglia. Oggi si vedono i lupi come i gatti in giro, il giorno, la sera. Volevo dire che è il nostro superiore che vorrà di risolvere la situazione, perché qui non si può andare più avanti. Si vedono i lupi di giorno come i cani in giro. Anche pericoloso? Molto pericoloso. Infatti, quelli che camminano a piedi fanno il giro da Monteporzio, Castello Vecchio, molti non passeggiano più perché è arrivata la voce che ci sono questi lupi in giro. Quindi, in paura, non fanno più le passeggiate. Lei fa il pastore da 42 anni. Ha già visto altre scene di questo tipo? Ormai siete abituati? A me ne hanno ammazzate prima 40 e venerdì notte ne hanno ammazzate 7. 4 agnelli, 2 montoni e una pecora. Purtroppo, io sono vecchio, devo smettere, perché non si può andare avanti con questo sistema. Questo non è un sistema. Ma se cambiano sistema è che gli elevatori sono protetti, sono pagati per i danni. Invece qua si lavano le mani tutti, non fanno niente. È difficile poi ottenere anche un risarcimento? No, non ci danno niente. Dobbiamo pagare 70 euro per pecora per lo smaltimento. Oltre al danno, la beffa? Oltre al danno, la beffa. Se i cani maremani non li possiamo ottenere, perché noi ancora facciamo il pascolo vagante e passa la gente per la strada, danno fastidio di qua e di là e allora conviene chiudere l'ufficio e via.